lui è pietro resta in arte wikipedro 26 anni di firenze segni particolari entusiasmo patologico mete preferite cucine da campo grocche di fango se non c'è un letto va bene una lettiera non viaggia mai senza il manuale del giovane macgyver ha scelto di fare l'ispettore per il patrimonio non esco perché voleva capire il significato di partire un po come morire e questo è manucci il suo collega insieme sono l'uno la metà perfetta della mela di qualcun altro in prima tv assoluta turisti per dimax posti assurdi e dove trovarli dal 27 giugno alle 22 20 su dimax e canale 52